Mercoledì il notto e otto, Iberio di Uferi. E com'è Loreto, te? Brava, Fabio. Te l'hai affitto in un locale di fronte a noi? C'è... No, no. Senti, te, ti prevedi il pomeriggio al bar. Quanto caffè fai? Due chili. Ci prendiamo una cosa. Un te. Uè, ti devo lasciare sta venendo a baticchio. Un po' di spiega. Ciao, 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 ciao. Ci fa due tè al limone? Certamente. Una baticchione. Molto, molto piacere, Michele Caldarulo. A baticchio. Lo so. Sono 450 metri quadri, sei vetrine. Laboratorio e magazzino fanno altri 400 metri. Tra due mesi inauguriamo. Ah, fra due mesi. Qua ci sta il bancone pasticceria. È lungo 10 metri. 10. Solo. 10. 12. 10. E i tavoli. Il marmetto di tram. Qua ci stanno le 20 vaschette con i vari gusti dei gelati. E i semifreddi dove vanno? Qua. Quattro frigoriferi. Quattro. Non le sembrano sufficienti? Secondo me sì. Quattro. Quattro. Non credevo che stava... Faccia cinque. Cinque. Ventisette. Ah, dei pasticcini. Ce l'ho. Eh? Ce l'avevo ma... Ma sono finiti. Poi ci sta il bancone del bar. Le consumazioni avvengono sui tre lati. La macchina da caffè è la più moderna attualmente in circolazione. Milano. Primo estratto. Settantadue. Sette due. Ventisette. E quanti beccucci, eh? Nove. Nove. Oh, il triplo di questo. Quanti beccucci c'ha la macchina? Questa qua, momentaneamente tre. Tre. Sì. Faccia nove. Nove. Napoli. Primo estratto. Sessantasette. Sei sette. C'ha zucchero di canna? Di chi? Di canna. No, per finire. Andiamo subito a vedere quali sono i numeri estratti sulla ruota di Palermo. Primo estratto, ventisette. I operatori della Lottomatica hanno già preso il loro posto, pronta alla commissione ministeriale e in questo momento prendano Angelica. Estrarà per voi i cinque numeri dell'estrazione. Già lo vanno portati. La campanella è da inizio. Ma io stesso. Il primo estratto numero cinquantacinque. Ed eccolo qua. È supera la nostra combinazione vicenda. 85 miliardi. 4, 16, 27, 5, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 187 e 187 e 189. Quanta è? 86 miliardi. Grazie. Grazie.